Come si fa la spesa al giorno d'oggi? A chi non è già capitato? Sono nel negozio e ho di nuovo dimenticato la lista della spesa. Vedo molte promozioni, ma non quelle che mi servono. E una volta a casa, mi accorgo che per preparare la cena dovrei rifare la spesa da capo. Ma ormai questo fa parte del passato. Chi è furbo oggi fa la spesa tramite lo Smart Shopper di Comparis. Grazie al pratico metodo di scrittura o scannerizzando il codice a barre, mettere insieme i prodotti desiderati è facile. E la lista della spesa sull'iPhone è già pronta. Ma non è tutto. Sulla lista della spesa è possibile vedere direttamente quali prodotti sono in offerta e dove. E per non farsi più scappare azioni interessanti, ora c'è la funzione di allarme, che avvisa in automatico all'arrivo di nuove offerte. Le liste della spesa possono inoltre essere salvate sul telefono e riutilizzate quando si desidera. Così carta e penna restano tranquillamente a casa. Lo Smart Shopper per iPhone si può scaricare subito gratuitamente dall'App Store. Oggi la spesa si fa così.